Ho un po' il sospetto che l'intervista di oggi avrà qualche somiglianza con quella di un paio di settimane fa rispetto al cibo sintetico, credo che si tratti di un livello simile di ideologia all'interno del dibattito politico che si muove attorno a questi argomenti, ma qui si parla invece di una proposta di leggere per, insomma, quantomeno delle intenzioni proteggere l'italiano, diciamo così, la lingua italiana. E quindi raggiungiamo proprio chi di linguistica si occupa, è professoressa associata all'Università di Pavia, Ilaria Fiorentini, benvenuta su Play. Buongiorno. Allora, io partirei proprio come quest'altra intervista, quella che ho citato poco fa, ovvero da una definizione. Io all'epoca chiedevo all'ospite Michele Antonio Fino che cosa potesse essere questo cibo sintetico e qui invece si parla di forestierismi, o quantomeno è quello di cui si è discusso molto nel commentare questa proposta di legge dell'onorevole Rampelli che fa parte di Fratelli d'Italia. Quindi, da un punto di vista anche, se vogliamo, puramente scientifico, che cos'è un forestierismo? Sì, forestierismo è un termine tecnico che esiste, si usa in linguistica da moltissimi anni e indica quelle parole di matrice straniera che vengono quindi mutuate da altre lingue, non necessariamente l'inglese e che entrano nell'italiano mantenendo in qualche modo del tutto, almeno in parte, i loro caratteri originari. Croissant è un forestierismo, abajur è un forestierismo, anche dribblare è un forestierismo nella misura in cui almeno una parte, una radice della parola, arriva da un'altra lingua, dall'inglese e poi viene a questa parola applicata la morfologia verbale dell'italiano. Sono quindi quelli che vengono chiamati anche prestiti linguistici, diciamo che ci sono anche, si distinguono da altri tipi di prestiti del tutto acclimatati perché appunto conservano in qualche modo quest'area straniera, anche grattacielo arriva in qualche modo dall'inglese come si sa, però in questo caso si tratta di un calco, nel senso che dall'inglese skyscraper non si è presa direttamente la parola più o meno adattandola, ma si è tradotta in un certo senso utilizzando materiale italiano. Quindi questa è la distinzione rispetto ad altri tipi di prestito. Quindi già con questa definizione abbiamo capito che la quantità di parole che dovremmo eventualmente multare è veramente altissima e magari non ci accorgiamo nemmeno di usarle. Voglio partire appunto da questa proposta di legge perché proprio nelle prime frasi si parla di preoccupazione da parte di studiosi, esperti e di istituzioni come l'Accademia della Crusca rispetto al pericolo, al rischio della lingua italiana, come appunto se questa fosse uno rischio percepito, profondo e diffuso. E quindi chiedo a te che appunto oltre ad insegnare questa materia immagino abbia a che fare con colleghi quotidianamente, ecco c'è effettivamente questo pericolo percepito rispetto alla lingua italiana? No, non da parte dei linguisti almeno, non da parte degli addetti a lavori. È un tema che vediamo, accende immediatamente gli animi, soprattutto oggi sui social, ma in realtà è un tema di cui si è sempre discusso. Quindi anche i linguisti ne hanno parlato, ma ne hanno parlato per rassicurare diciamo la popolazione sul fatto che l'italiano non è in pericolo. Se ne è occupata anche Tullio De Mauro a proposito di Accademia della Crusca, ha scritto nel 2016 un articolo per internazionale, si può trovare online, proprio a proposito, proprio chiedendosi se fosse irresistibile l'ascesa degli anglismi, è proprio questo il titolo. Gli anglismi ci sono, li usiamo, come abbiamo detto anche prima, usiamo anche parole provenienti da altre lingue. L'italiano non è per questo motivo in pericolo. Su un blog di linguistica che si chiama Linguisticamente, che si occupa di questi temi in maniera divulgativa, ha parlato di questo un altro linguista che si chiama Nicola Grandi e anche un paio di anni fa, a dicembre del 2020, aveva scritto un post intitolato Chi ha paura dell'inglese, in cui ha dovuto inserire un disclaimer, proprio dicendo che è un post anche ironico, appunto, divulgativo, perché gli animi anche in quel caso si erano accesi, si erano accesi moltissimo. E anche qui, anche in questo articolo, si cerca di rassicurare sul fatto che sì, gli anglismi ci sono, probabilmente sono anche in aumento, anche rispetto al fatto, anche perché siamo molto più in contatto con l'inglese rispetto a una volta, sempre attraverso internet e i social. Però, almeno finora, quello che ci arriva dall'inglese, ripeto, come dalle altre lingue, sono parole, sono dei prestiti a livello lessicale, finché, e questo non accadrà, o almeno non è nel prossimo futuro, non va a modificarsi la grammatica, ecco, di una lingua, la lingua continua a non essere in pericolo, semplicemente sta mutando, come accade a tutte le lingue. Quindi, gli linguisti si occupano della questione, ne hanno parlato, ci scrivono, ma non sono particolarmente preoccupati. Anche il congiuntivo sta benissimo. Ecco, ecco, è un altro tema, insomma, sono tantissimi temi che potremmo aprire. Uno di questi, tra l'altro, è proprio come invece anche la lingua inglese, sia una di quelle lingue, forse che più di tutte, prende parole da quelle straniere, come l'esempio l'italiana, dal loro punto di vista, e arricchisce moltissimo il proprio vocabolario e nessuno dice che l'inglese sta morendo. Almeno quella, credo che sia sicuro da qualsiasi tipo di pericolo. Vorrei però soffermarmi su un altro tema, perché appunto le strade possibili da affrontare su questo tema sarebbero infinite, ma vorrei invece soffermarmi su altro, cioè appunto il fatto di presentare una proposta di legge. La lingua è qualcosa di evidentemente molto sfuggente da affrontare, da regolare, e quindi la domanda forse un po' critica è questa. Insomma, al di là delle nostre opinioni, però, se mai davvero volessimo mettere in piedi una legge che cerchi di vietare questo tipo di parole, sarebbe davvero possibile, insomma, si può normare una lingua? Normare dipende in che senso. Nel senso in cui dicevi tu, cioè di porre dei limiti e di impedire di usare certe parole, certe forme, certe espressioni, direi di no, se no si scivola in qualcosa che la nostra Costituzione stessa cerca di evitare da un po'. Tra l'altro, a proposito di Costituzione, ci tengo a dire che nella Costituzione l'italiano non è sancito, indicato come lingua ufficiale, per varie ragioni, e peraltro questo è un altro tema, i giornali non ne parlano, ma di cui si sta discutendo. L'italiano è indicato come lingua ufficiale in una legge importantissima del 1999, la legge 482, che è la legge in tutela delle minoranze linguistiche, perché in Italia, oltre all'italiano, quelle sono invece in pericolo, sono parlate altre lingue, quasi tutti conosciamo francese, tedesco, il francese Valle d'Aosta, il tedesco in Trentino, c'è anche lo sloveno, ma poi ci sono per esempio il ladino, tra Trentino, il Tadige, Veneto, in Piemonte, sapete benissimo, insomma immagino che i vostri spettatori conoscono Cittano, Franco Provenzale. All'interno di questa legge, che quindi dispone delle norme per la tutela di queste lingue, all'articolo 1 si stabilisce che l'italiano è la lingua ufficiale, fino a quel momento lì non era stato stabilito, per varie ragioni anche dovute, non c'è una spiegazione certa, però anche dovuta a quello che era successo durante il fascismo, alle politiche di italianizzazione che si erano avute durante il fascismo. In Italia abbiamo anche appunto l'esperienza delle lingue di minoranza, che ci tengo a citare perché si tratta in questo caso di lingue veramente in pericolo, nel senso che sono parlate da sempre meno persone, quindi rischiano di scomparire. Anche in questi casi, per tutelare le lingue, si pensa, si cerca di creare a volte degli standard, cioè delle lingue corrette, tra virgolette, delle lingue con una grammatica, un vocabolario fisso, normato, al fine di aiutare questa lingua a avere appunto uno standard fissato che tutti possano conoscere, almeno utilizzare nello scritto. Sto semplificando però tutto questo per dire che anche in questo caso i parlanti spesso rigettano lo standard, questo imposto dall'alto e creato tavolino, proprio per la paura di perdere la propria specificità e appunto ritenendo che sia molto più importante parlare, anche questo mi è stato detto da alcuni parlanti di ladino, parlare la propria lingua anche magari nel loro caso con dei prestiti dall'italiano, che è quello che crea pericolo in quel caso, però continuare a parlarla, a mantenerla così com'è. Quindi mi riflettevo che da parte di questi parlanti di lingue effettivamente in pericolo c'è molto più la consapevolezza che la lingua cambia, si evolve, ma l'importante è continuare a parlarla senza preoccuparsi troppo di mantenerla pura, perché le lingue non si possono mantenere pure. Chiaro. Altronde anche un italiano corretto, scusa, appunto, l'italiano così come nella norma e nello standard sostanzialmente in Italia non lo parla nessuno. Esatto, sì, perché stai proprio anticipando il tema sul quale volevo andare a chiudere, ovvero l'esistenza di una lingua corretta, cioè perché oltre a voler evitare questi foresterismi si vuole anche promuovere l'insegnamento della lingua corretta, che però sembra appunto un po' strano. Quale potrebbe essere esattamente la lingua corretta in Italia se il fiorentino di Dante, insomma, direi che è passato un paio di secoli, giusto, e qualcosa è cambiato, insomma, dall'epoca. Quindi la domanda, insomma, un po' provocatoria è esiste una lingua corretta, un italiano corretto? Se esiste, perché esiste nei vocabolari, nelle grammatiche, poi con tutte le eccezioni che sono tipiche della lingua italiana, no? Per cui quando dici che sei una linguista, nelle prime cose che ti vengono chieste, ma si dice è piovuto o ha piovuto? E tu in quanto linguista ti fai detestare rispondendo dipende, perché spesso appunto una risposta esatta non c'è. Quindi c'è naturalmente una norma dell'italiano che troviamo nelle grammatiche, in dizionari, però in italiano è talmente forte la variazione regionale. Quello che stiamo parlando io e te adesso non è un italiano corretto così come sarebbe da standard, quantomeno per come, per esempio, io pronuncio le vocali E e O, apertissime, rispetto a come andrebbero pronunciate. Quindi un italiano così, che si vuole così fisso, puro, sì, esiste, ma esiste in astratto e non lo parla nessuno, anzi, nelle scuole, sarebbe molto più importante insegnare che esiste la variazione, che parliamo un italiano diverso, a seconda che stiamo parlando io e te in un'intervista alla radio, stiamo parlando io e te al bar, sto parlando con il medico, sto parlando con mia madre. L'italiano varia attraverso le situazioni, attraverso lo spazio, come varia attraverso il tempo, come dicevi giustamente tu. Quindi è giusto conoscere che esiste questa norma, naturalmente, nessuno lo nega, ma è giusto anche sapere che la lingua varia e non è una fissa e immutabile. Allora, come dicevo, i temi da affrontare, i filoni, sarebbero infiniti, potremmo stare circa un'oretta almeno ad affrontarli tutti, il tempo radiofonico però ci blocca, quindi io ringrazio tantissimo Ilaria Fiorentini, come dicevo, professoressa associata all'Università di Pavia, per aver fatto un po' di chiarezza su questo tema, come spesso un po' ingarbugliato, specialmente quando entra nel tritacarne, di commenti, di discussioni social, discussioni, insomma, poco informate. Grazie mille davvero e alla prossima. Grazie a te, a presto. Noi ci prendiamo adesso un po' di pausa, un po' di musica e...